Attenzione! Beh, quello è un soldato nemico! Soldato nemico individuato! Visto? Uno dei loro soldati! Città già le verso! ино lui están dieci! Guardate fuori un soldato, non lo sova. Volvere tutto uMmipi! Attenzione, mitragliatrice! Occhio! Ho avvistato un dirigibile! Occhio! Un carro! Occhio! 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 We have lost Objective Butter. Occhio! 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 Grazie a tutti.